Ciao, sono Gianluigi Bonanomi e ho una particolare, diciamo, passione per gli utonti, chi sono gli utonti? Gli utonti sono gli utenti tonti, diciamo quegli utenti che non ce la fanno, quegli utenti che non è solo una questione di competenze informatiche, è una questione anche un po' di superficialità, un po' di ignoranza, un pochettino di un atteggiamento che li porta a diventare un po' gli zimbelli. Non vogliamo chiaramente scatenare l'odio nei confronti di queste persone, ma semplicemente farci una risata. Questo era l'intento appunto del mio libro, di cui poi ti parlo, ti voglio portare qui cinque esempi di questi utonti che non sono niente niente male. Il primo è questo tizio che in una importantissima videoconferenza non si è reso conto di aver attivato un filtro particolare e ha fatto tutta la videoconferenza da patata. Cioè era una patata, una patata che parlava e questo secondo me è abbastanza ridicolo. La seconda, diciamo, il secondo utonto è un gruppo di utonti che sono i fan di Vasco, devo dire che anch'io da ragazzino ero un fan di Vasco, sono andato a concerto nel 1990 a fronte del palco, poi un po' abbandonato, però voglio dire adesso quando ho letto questa notizia diciamo mi si è un po' accapponata la pelle, c'è questi fan di Vasco in coda per un biglietto che era solo online. La terza categoria di utonti sono quelli che compilano i moduli e ci lasciano dentro delle informazioni imbarazzanti, quindi qui il telefono invece di mettere il numero di telefono ha messo qualcos'altro. Il terzo è una cosa che è successa a me, quando scrivevo per una rivista informatica che si chiamava Computer Idea, mi era capitato tra le mille cose purtroppo di dover gestire anche la posta. A un certo punto mi scrivevano dei personaggi veramente improbabili, pensate che noi vendevamo la rivista anche a chi non aveva il computer e quindi sostanzialmente avevamo della gente che faceva un po' fatica. A un certo punto questo il computer ce l'aveva e mi scrive Ho un problema, cercate di aiutarmi perché tutte le sere alle 6 mi spunta un fungo sul monitor. Io sono stato tentato di rispondere che non mi occupo appunto di questi aspetti micotici, non mi intendo di funghi, però ho voluto un po' indagare perché mi sembrava veramente strano che a questo gli spuntasse un fungo sul monitor. Allora dopo varie mail ho capito che ovviamente non era sulla scocca del monitor, ma nella schermata veniva fuori questa icona, questo fungo. Beh, per farla breve, era l'ombrellino di Avast che voleva l'aggiornamento tutti i giorni alle 6 e lui l'aveva scambiato per un fungo che saltava fuori nel monitor. Ma è il mio preferito che appunto ho inserito in questo libro che gira da diversi anni, che si chiama appunto Utonti, che ho scritto per le edizioni di Milano, che è praticamente il tizio che entra in un, sembrava la barzelletta come l'italiano e il francese, comunque c'è un tizio che entra in un negozio di informatica e dice scusi vorrei un Rottweiler. Beh, il commesso un po' spiazzato dice guardi noi non abbiamo questo tipo di articoli, sempre che si possa chiamare articoli degli animali, c'è un negozio però appunto di pet, di animali, in fondo alla strada vada pure a chiedere a loro un Rottweiler. Beh, alla fine questo voleva un router wireless. Con questa chicca ti lascio, ti ricordo che c'è appunto questo libro che gira da un po', ha venduto anche qualche centinaia di copie per le edizioni Utonti, io sono Gianluigi Buonanomi, per tutti gli altri libri mi trovi su gianluigibonanomi.com. Ciao!